E' uscito, come era prevedibile ragazzi, in questi giorni è uscito il trailer del secondo film di Joker. Joker Folia 2, un film ovviamente di nuovo che rivede Joaquin Phoenix nei panni di Joker con una grandissima new entry assolutamente rilevante e importante, ovvero l'Harley Quinn, questa volta però interpretata da Lady Gaga. Questo film in realtà è molto discusso già da prima di vedere questo trailer, nel senso che diverse informazioni sono uscite. L'analisi di questo trailer la voglio fare in questo modo, ponendo l'attenzione principalmente su due grandissimi temi, che in realtà già bene o male conoscevamo, ma a quanto pare saranno estremamente importanti all'interno del film. E da questi due temi riusciremo anche a parlare di quella che probabilmente sarà l'evoluzione del personaggio di Joker e anche di questa grande new entry che dovrebbe essere appunto Harley Quinn. Dico dovrebbe perché in realtà sì, è Harley Quinn, ma dal trailer sembra proprio un Harley Quinn molto diversa da come la conosciamo, insomma, da come siamo abituati a conoscere soprattutto noi che dedichiamo un intero canale al mondo dei fumetti. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link diretto per il nostro bel linktree in cui trovate tutti i social da cui vendiamo fumetti. Rivendiamo infatti fumetti utilizzati sia singolarmente che con collezioni intere. Le collezioni intere ovviamente sono quello che io vi consiglio di più. Infatti se volete per esempio c'è una collezione intera di Wolverine in tipo di più di 50 numeri, tutti a un buonissimo prezzo ovviamente perché sono libri già letti. Comunque trovate il link in descrizione per il linktree, seguitaci su Instagram, su Telegram e fate anche un salto sulla nostra pagina Vinted. Comunque trovate un sacco di fumetti, veramente un sacco, ogni settimana praticamente ce ne sono di nuovi e io direi che possiamo cominciare. Il primo tema che voglio affrontare in questo video, su cui in realtà bisognerebbe proprio affrontare tutte le discussioni di questo film, è la questione musica. Perché quando si parla della musica in questo film parliamo anche inevitabilmente dell'Harley Queen di Lady Gaga. In particolare la musica sarà molto importante in questo film perché una notizia che è uscita diversi mesi fa, che ha fatto discutere moltissimo, è che questo film sarà un vero e proprio musical. E moltissimi si sono chiesti, ma che cavolo c'entra un musical con Joker e Harley Queen? Sicuramente la forma del musical funziona benissimo con un artista come Lady Gaga e funziona anche bene comunque in una storia d'amore in generale, è sempre stato così nel mondo della cinematografia. Ecco, in questo mondo particolare, in questo Elseworld, potremmo chiamarlo, in cui ci sono le storie del Joker, a quanto pare non è solo l'attrice che interpreta Harley Queen a essere legata moltissimo al mondo della musica, ma sembra essere anche l'Harley Queen originale, quindi il personaggio in sé. In realtà, all'interno dei fumetti, se seguite questo canale, ma in realtà se siete comunque fan del mondo di Batman in generale, sapete benissimo che Harley Queen sarebbe una lavoratrice del Arkham Asylum, in particolare una psichiatra, comunque ha avuto a che fare con il tentativo di recupero del Joker a livello psichiatrico, ovviamente non riuscendoci per poi innamorarsi del Joker, cosa che appunto succederà anche nel film e questo lo sappiamo benissimo. Ecco, in questo film sembra quasi che questo ruolo, per quanto riguarda Harley Queen, non ci sia. Cioè noi non vediamo mai, all'interno del trailer, fateci caso, Harley Queen invece da psicologa. Sicuramente è una frequentatrice di Arkham, nel senso che la vediamo all'interno di Arkham, sicuramente si innamorerà del Joker, quindi quella parte lì, presa dalla parte originale, dai fumetti, ok, quella c'è sicuramente. Le origini però di Harley Queen potrebbero comunque essere un pelo diverse. Da quello che vediamo nel trailer, infatti, quanto pare, Harley fa parte di un gruppo che appunto è dedito alla musica. Un gruppo a cui, a quanto pare, che è frequentato, a quanto pare, da diversi detenuti dell'Arkham Asylum. Nelle scene in cui vediamo questo gruppo di canto, in realtà, Harley, ma non sembra neanche essere la maestra, la direttrice di questo gruppo. Non è lei al pianoforte, certo è in prima fila, ma non è lei che dirige il gruppo. Sembra far parte di quel gruppo lì, non come se fosse una paziente, ma magari aiuta in quel caso lì. Magari Harley Queen, all'interno di questo film, non sarà rappresentata come una vera e propria psichiatra, ma sarà semplicemente rappresentata come una lavoratrice del mondo, anzi, dell'Asylum, quindi dell'Arkham Asylum, in quanto, magari, istruttrice di musica, che aiuta l'istruttore di musica, frequentatrice del mondo dell'Arkham Asylum, senza essere direttamente una psichiatra. In questo modo sarebbe anche semplice collegare poi la storia alla musica, musica che appunto deve essere al 100% importante in questo film. Ovviamente, ragazzi, andiamo con i piedi di piombo nel cambiamento totale di Harley Quinn, perché ho letto alcuni commenti che rimangono interessanti, ma secondo me semplicemente non possono essere veri. Alcuni, infatti, ipotizzano addirittura che Harley Quinn, in questo film qui, partirà non da una psichiatra che impazzisce, ma sarà già una paziente dell'Arkham Asylum. È veramente difficile come cosa, perché proprio all'inizio del trailer, verso la parte iniziale, in realtà non proprio all'inizio, si vede Harley in vestiti civili, al di fuori dell'Arkham Asylum. Quindi, alcuni che magari possono anche evolvere un po' questa ipotesi, questa teoria, dicendo che magari non è una paziente dell'Arkham Asylum, ma frequenta l'Arkham Asylum, perché anche lei ha dei problemi, ha dei problemi che sta cercando di affrontare. E magari, nell'Arkham Asylum di questo universo qui, certo, puoi essere un internato, come nel caso di Joker, ma puoi essere anche un visitatore, che magari entra ogni tanto. In generale, questo pippone che vi ho sparato su Harley Quinn è per dire che credo proprio che non sarà una psichiatra in questo film, giustamente, perché se serve veramente a giustificare tutta la parte musicale, allora è giusto che sia così. Come vi ho detto all'inizio, ci sono due parti in cui ho voluto dividere l'analisi slash spiegazione di questo trailer. Una è la musica e l'altra abbastanza collegata in realtà alla musica, ovvero i spettacoli. Il mondo dello spettacolo, che è un mondo che io amo follemente, è anche un mondo estremamente collegato al Joker, soprattutto al primo film del Joker. Alla fine, l'unico desiderio di Arthur è quello di entrare a far parte di questo mondo, un po' malato sotto certi punti di vista, e ha sempre avuto questa fissa. Infatti, vedere all'interno del trailer il Joker, Arthur, interessato al mondo dei musical, al mondo del teatro, al mondo della musica, non è nulla di strano, perché comunque fa sempre parte dello stesso gruppo, dello stesso insieme, di cui faceva parte anche il mondo della comicità, quindi semplicemente il mondo dello spettacolo. Perché ho voluto inserire i show come elemento principale dell'analisi, perché come vi ho detto, la musica ci serve a capire magari le origini del personaggio di Harley Quinn e come verrà effettivamente visto al cinema questo film. Mentre invece lo spettacolo, gli spettacoli, perché ne vediamo diversi, possono darci degli indizi su quella che sarà la vera e propria trama del film. Ecco, all'interno del trailer infatti vediamo diversi spettacoli, vediamo anche discutere del fatto che il Joker debba fare o non fare diversi spettacoli. Può essere quindi che all'Arkham, in particolare alla direzione dell'Arkham Asylum, questi spettacoli vengano venduti magari dalla stessa Harley Quinn, ripetiamo quella che dovrebbe essere una civile, probabilmente una lavoratrice dell'Arkham Asylum, come una sorta di metodo di redenzione curativo quasi per il Joker. Un qualcosa che lo possa aiutare, che possa aiutare magari altri detenuti che potrebbero aiutarli appunto a organizzare questi spettacoli. Con, annesso magari, un grandissimo guadagno per quanto riguarda l'Arkham Asylum, che portando il Joker sul palco guadagnerebbe tantissimi soldi con i biglietti. Beh, sicuramente è una cosa che funziona. È una cosa che funziona, questa trama, e funziona anche vedendo effettivamente alcune immagini del trailer, dove certo vediamo il Joker, vediamo Harley Quinn, che fanno i loro spettacoli, ma al di fuori c'è gente incazzata nera, perché giustamente c'è gente che ha perso molto con la cultura che ha portato il Joker a Gotham nell'ultimo film. Come allo stesso tempo c'è gente che ha guadagnato molto, che si è sentita rappresentata e che quindi andrà a vedere gli spettacoli e che sostiene questi spettacoli. Alcuni degli spettacoli che vediamo nel trailer, secondo me, sono falsi, nel senso che magari sono delle scene che vedremo in questo musical, ma che sono immaginate magari dalla mente o di Harley Quinn o del Joker, oppure dalla mente di entrambi, sendo che il titolo è Follia 2, quindi una follia, tra virgolette, una pazzia condivisa in due. Ecco, questa è una cosa che può succedere, e collegandoci sempre alla questione trama legata agli show, qua un bel riferimento a un bellissimo fumetto, essendo che siamo su Hock Comics, io ve lo voglio comunque dare. Il riferimento, ovviamente, è legato a The Dark Knight Return. In particolare parliamo del personaggio del Joker in The Dark Knight Return, che è già stato citato nel primo film. In generale, questo personaggio ha a che fare col mondo dello spettacolo, col mondo dell'intrattenimento, ed è quindi facile da collegare a il Joker che abbiamo visto in questo nuovo universo cinematografico. Un Joker che ha a che fare col mondo dell'intrattenimento, nuovamente, ragazzi. Difatti, come molti di voi sanno, l'omicidio del conduttore nel primo film sembra essersi proprio ispirato da The Dark Knight Return. Ma in realtà la scena da cui viene presa ispirazione, appunto, per l'omicidio finale, praticamente, di quel film, non è completa. Perché all'interno del fumetto, The Dark Knight Return, in realtà la scena è molto più truce, e non riguarda solo ed esclusivamente il conduttore, ma riguarda anche altre persone. Mi spiego meglio, ovviamente, vi do anche delle nozioni in più, magari non conoscete esattamente la scena. In questo universo qui, per anni, tutti i vari vigilanti sono messi proprio fuori legge, quindi Batman non opera più, e Joker, totalmente annoiato, entra in uno stato di catalessi, praticamente. Cioè, non si muove più, non risponde più, si dimentica chi è, e a un certo punto, quando ormai Bruce è anche molto grande di età, torna sulle strade di Gotham City. Il Joker, vedendo tutto questo, quindi riacquista la sua coscienza, e finisce in un talk show per essere intervistato. Di fatto, viene messo in questo talk show come un Joker che è stato curato, ok? Ma lui non solo ammazza il conduttore, cosa che abbiamo visto nel primo film, ma ammazza con un gas, con una tossina, tutti i spettatori, tutti i partecipanti allo show. Ecco, una cosa che si potrebbe vedere anche all'interno del secondo film. Quindi, un Joker, che viene preso sul palco questa volta non come uno spettacolo, non come uno fenomeno da baraccone, ma come qualcuno che sta osservando un percorso di cura, grazie anche alla musica, ma che dimostra di non essersi curato per niente, anzi, che questa volta magari ha con sé un'aiutante, un Harley Quinn, che sa il fatto suo. E quindi, in uno dei tanti spettacoli che potrebbero organizzare, ci potrebbe essere proprio questo grandissimo omicidio. Effettivamente, all'interno del trailer, ci sono diverse immagini di casini, di rivolte, dello stesso Arthur, che viene sbattuto in carcere come se avesse fatto qualcosa di gravissimo. Questo grande omicidio potrebbe non essere alla fine del film come è successo col primo film del Joker, ma magari a metà. Magari potrebbe essere proprio il punto focale da cui parte poi il casino che porta alla parte finale del film. Ok, ragazzi? Questo è tutto quello che secondo me si può dire di questo film con una piccola aggiunta. Nel senso, all'interno del film, almeno del trailer, anzi, diciamo così, ci sono due grandi personaggi. Ovviamente sono Harley Quinn e il Joker, Arthur, ok? Questi due personaggi, nel trailer, ci vengono fatti vedere in modo completamente diverso. Cioè, l'Arthur che noi vediamo nel trailer sembra veramente essere una persona che ha trovato nella musica un nuovo amore e che quindi si sta esprimendo con la musica, potrebbe essere utile per curare, no? I suoi problemi. E allo stesso tempo abbiamo Harley Quinn che lei è già in contatto con la musica e che qualcos'altro trova per curare i suoi problemi, per diventare di più se stessa. Ed è proprio la natura del Joker. In generale, quello che ha fatto è quello che rappresenta. Sembra quasi che Arthur voglia uscire dalla sua condizione e Harley Quinn invece voglia entrare. Beh, il fatto che Harley Quinn voglia entrare in quella condizione è abbastanza logico anche per seguire la linea fumettistica. Però in questo caso abbiamo un Arthur che vuole uscire da quella condizione. E se questi casini che abbiamo descritto che potrebbero succedere all'interno del film fossero causati proprio da Harley Quinn, magari all'insaputa di Arthur, ok? Questo potrebbe essere un altro risvolto della trama interessante. Comunque interessante. Ricordatevi che l'Arthur, quindi il Joker che noi conosciamo in questo universo qui è estremamente diverso dal Joker che noi abbiamo conosciuto nei fumetti o in altre opere cinematografiche, serie tv e via dicendo. Ok? Quindi sono cose che potrebbero accadere effettivamente. Io ragazzi mi fermo qui con questo video. Come al solito mi raccomando fate i bravi la solita raccomandazione che vi faccio io e noi ci vediamo prestissimo con altri video a tema comics magari con altre informazioni su questo film se ci saranno. Fate i bravi ciao a tutti.